benvenuti amici di fulcrotech e siamo qui presenti con l'unboxing dello xiaomi mi 3 xiaomi mi 3 che presenta una confezione in cartone riciclato molto grande molto elegante con dietro le varie caratteristiche tecniche allora all'interno della confezione che è comunque abbastanza difficile da aprire è presente ovviamente lo smartphone che adesso rimuoveremo il pin per rimuovere il carlino per la sim manualistica e se mi riesce di toglierlo caricabatterie eccolo qua il cavo molto elegante sembra anche molto robusto e di qua il vero e proprio caricabatterie la presa è inizialmente cinese come si può vedere da qui però è stato nella confezione che usa ancora l'adattatore per le prese italiane questo è il telefono nella versione nera 64 giga nella versione nera 74 giga è presente anche questo comodo tasto programmabile che è in offerta con il nero 64 giga però da xiaomi shop questa è anche la confezione del tastino si inserisce nel jack ed è il programmabile a piacimento seguirà più avanti una recensione di questo magnifico terminale e questo è tutto a dopo da pulcatec